Abbiamo terminato la nostra avventura, abbiamo affrontato orrori cosmici e chissà che altre tremende difficoltà e direi che un poco di traumi ci stanno. Per cui come la risolviamo questa cosa se non con un pochettino di pet therapy? Lo vediamo subito qui su Wikirol. Saluti e frecce bentornati su Wikirol. Quest'oggi andiamo a parlare di un incantesimo che evoca animali. Incantesimo fenomenale, fortissimo per quanto mi riguarda e soprattutto è molto utilizzabile in varie situazioni. Prima di iniziare io come al solito vi invito sempre a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, mettete un mi piace al video sempre se vi è interessato il contenuto e commentate per un feedback. Soprattutto veniteci a seguire su tutti i nostri canali social, Twitch, Discord, Instagram, tutto quanto lo trovate in descrizione e adesso buttiamoci subito in questo incantesimo. Siamo sul manuale del giocatore a pagina 232. Questo incantesimo è un incantesimo di evocazione di terzo livello. Tempo di lancio un'azione gittata distanza quindi 18 metri. Le componenti sono verbale e somatica e come durata ha concentrazione fino a un'ora quindi questo incantesimo è attivo per un'intera ora. L'incantatore evoca alcuni spiriti fatati che assumono forme bestiali e compaiono in spazi liberi entro gittata che egli sia in grado di vedere, scegliendo una delle opzioni seguenti per determinare ciò che appare. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo evocando degli spiriti fatati che non compaiono come dei folletti, delle fatine o che altro, compaiono come se fossero degli animali veri e propri. Li evochiamo entro 18 metri di gittata, durano per un'ora. Ora come vedremo sceglieremo che tipo di creature o meglio la forza di queste creature e il numero di queste creature. Quindi cosa possiamo evocare? Una bestia con grado di sfida pari o inferiore a 2, 2 bestie con grado di sfida pari o inferiore a 1, 4 bestie con grado di sfida pari o inferiore a un mezzo, 8 bestie con grado di sfida pari o inferiore a un quarto. Quindi con questa tabellina ci viene detto giocatore tu puoi scegliere che forza ha la bestia che stai evocando, il fatato per essere precisi che stai evocando o i fatati e sulla base della forza, sulla base del grado di sfida abbiamo anche un numero massimo di bestie che possiamo evocare. Il massimo totale è 8 sostanzialmente quindi possiamo evocare fino a 8 bestie di grado di sfida un quarto o anche 8 bestie di grado di sfida un ottavo, 8 bestie di grado di sfida a 0. Salendo ovviamente questo numero, salendo con il grado di sfida, questo numero si riduce, si dimezza per la precisione, fino al massimo di una sola bestia con grado di sfida pari o inferiore a 2. Ogni bestia è considerata un folletto e scompare quando scende a 0 punti ferita o quando l'incantesimo termina. Ora, questo ci serve a capire che cosa? Che se scende a 0 punti ferita la bestia scompare, se l'incantesimo termina perché abbiamo perso la concentrazione o perché è scaduta l'ora la bestia scompare e soprattutto la bestia è considerata un folletto. Questo è importante per quanto riguarda incantesimi che vanno ad avere a che fare direttamente con i folletti come ad esempio protezione dal bene e dal male. Protezione dal bene e dal male che protegge anche contro gli esseri fatati, contro i fei, contro i folletti. Quindi questo ci fa capire che queste bestie a tutti gli effetti devono essere considerati dei folletti, cioè quindi degli esseri fatati e non sono influenzati da incantesimi che invece potrebbero influenzare solo ed esclusivamente gli animali. Ma poi ci ritorneremo dopo su questa cosa. A questo punto andiamo a vedere nello specifico ci da adesso le regole di come funzioneranno queste bestie. In particolare le creature evocate sono amichevoli nei confronti dell'incantatore e dei suoi compagni. Non penso che ci sia nulla da dover spiegare qui. Si tira una sola volta per l'iniziativa di tutto il gruppo delle creature evocate che svolgono poi il loro turno tutte assieme. Qui una sola iniziativa, quindi evochiamo otto bestie di grado di sfida pari o inferiore a un quarto e tutte otto andranno ad avere una sola iniziativa che condivideranno tutte quante e agiranno tutte quante nello stesso turno di iniziativa. Le creature obbediscono ai comandi verbali impartiti dall'incantatore, nessuna azione richiesta. Quindi l'incantatore comanda le creature e dice loro fate questa cosa, attaccate questo tizio eccetera eccetera, non è necessaria un'azione. Se l'incantatore non impartisce loro un comando, le creature si difendono da eventuali altre creature ostili ma altrimenti non intraprendono alcuna azione. Sostanzialmente è un poco come dire che se non viene lanciato il comando, non viene detto le creature cosa devono fare. Potremmo dire che vanno in schivata, saranno in dodge, non è specificatamente detto, potremmo considerarlo così, ma si dipenderanno nei confronti di altre creature ostili. E infine, ultima cosa importante, il dungeon master, il DM, possiede le statistiche delle creature. Cosa vuol dire quest'ultima parte? Che l'incantatore sceglie che forza e quante creature devono essere evocate, ma è il dungeon master che decide quali creature verranno evocate, cioè quale statistiche otterranno queste creature. Qui apriremo poi una parentesi. Completando, diciamo che ai livelli superiori, quando l'incantatore lancia questo incantesimo utilizzando determinati slot incantesimo di livello superiore, sceglie una delle opzioni di evocazione soprastanti e fa apparire un numero superiore di creature. Il doppio con uno slot di quinto livello, il triplo con uno slot di settimo livello e il quadruplo con uno slot di nono livello. Quindi a livelli superiori non aumenta la forza delle bestie, aumenta il loro numero. Se noi utilizziamo uno slot di quinto livello, le bestie di grado di sfida 2 o inferiore che possiamo creare non è più una, ma sono due. Allo stesso modo diventeranno 3 con uno slot di settimo livello o 4 con uno slot di nono livello. Allo stesso modo raddoppieranno, triplicheranno o quadruplicheranno tutte le altre opzioni. Quindi il massimo di creature che possiamo creare sono 32 bestie con grado di sfida pari o inferiore a un quarto, lanciandolo con uno slot di nono livello. Un bel numero, per carità, ma perché dovremmo usare uno slot di nono livello? Dettagli, dettagli. Di questo non ci interessa più di tanto. Fatto sta comunque che a livelli superiori quello che ci interessa focalizzare è che non diventano più forti le bestie, non possiamo evocare bestie più potenti, ma possiamo aumentare il numero. E con questo diciamo che l'incantesimo è concluso. A questo punto partiamo da cercare di capire come possiamo utilizzare questo incantesimo. Ovvio, primo utilizzo più banale che ci viene in mente, in combattimento. Ci mettiamo dentro qualche creatura più o meno potente o giochiamo sul numero in modo tale da crearci un economy action migliore e lo utilizziamo in combattimento. Possiamo utilizzarlo anche per altre cose. Possiamo utilizzare questo incantesimo per viaggiare, ad esempio, chiedendo al DM di richiamare delle bestie che ci possano far viaggiare velocemente. Cavalli da guerra, oppure creature volanti che possono essere i gufi giganti o i pepistrelli giganti. Sono delle creature di dimensione grande e soprattutto è quindi sulla base delle regole attuali di D&D, è possibile cavalcare queste creature e quindi è possibile coprire delle grandi tratte con queste. O ancora, un modo carino potrebbe essere anche utilizzare queste creature per creare scompiglio, per creare un poco di cacciara, in modo tale da riuscire a farci passare inosservati. Magari, non lo so, evochiamo otto bestie di grado di sfida zero, anche un quarto, non importa, comunque delle bestie che andranno a creare casino in una determinata zona, in modo tale da focalizzare l'attenzione di eventuali guardie, di eventuali nemici e ostili su una determinata parte, mentre il nostro ladro di turno o l'intero gruppo, zitto zitto, se ne va dall'altro lato in modo tale da evitare scontri particolari. Ora, questi sicuramente sono alcuni degli utilizzi che possono essere svolti per questo incantesimo. Ora iniziamo ad aprire qualche parentesi. La prima parentesi che voglio aprire è il fatto che il DM possiede le statistiche delle creature, quindi sostanzialmente il giocatore non può dire al master evoco otto lupi o evoco un orso, un orso polare o che altro, appunto come dicevamo, il gufo gigante per poter viaggiare. Teoricamente il giocatore non lo può fare questo lavoro qui. È il dungeon master che decide quale creatura appare. Vero è anche che io personalmente ritengo fattibilissimo il fatto di preparare una serie di bestie che possono essere evocate da giocatore, sottoporlo al master e il master decidere se va bene oppure non va bene, perché comunque, capiamoci, vero il DM possiede le statistiche, però è anche brutto se io ti chiedo magari otto lupi e che tu mi fai comparire otto gatti. Per carità sì, non sono bestie di grado di sfido un quarto, magari mi fai comparire otto serpenti, ecco, piuttosto che otto gatti, però cambia totalmente l'idea che io giocatore avevo di gestire quello scontro là. Per cui secondo me in Mediastat Virtus, come al solito, della serie giocatore preparati una serie di bestie che vorresti poter evocare, master analizzale, vedi se va bene, vedi se gliele puoi concedere e se magari il giocatore stesso ti chiede se master lancio animali e voglio far comparire otto lupi, se non ci sono problemi, se anche a livello di storia, di lore, va bene, perché no? Faglieli comparire. E qui mi voglio agganciare, infatti parlando della tipologia di bestie, parlando di quali bestie possono essere evocate, mi voglio agganciare su quali bestie sarebbe l'ideale avere. Ora, parliamo di quelle un poco più particolari, perché bestie di grado di sfida 2 e inferiore, sicuramente le migliori scelte possono essere gli orsi, oppure i lupi feroci, i tigri, i leoni, nel caso delle bestie di grado di sfida 1. Per quelle di grado di sfida 1 mezzo, beh, abbiamo i vari sciami, sciami di insetti, sciami di ragni, eccetera eccetera, che sono abbastanza fastidiosi da con cui avere a che fare. Mentre quelle che io però ritengo le migliori in assoluto sono due tipologie di bestie di grado di sfida 1 quarto. Non ho menzionato i lupi per caso. E insieme ai lupi menziono anche i veloci raptor. Qui però va fatta una piccola puntualizzazione, perché comunque il veloci raptor è un'alternativa piuttosto esotica, e quindi il master potrebbe non essere d'accordo a seconda dell'ambientazione a far comparire otto veloci raptor così dal nulla, creature che magari nessuno ha mai visto, l'incantatore stesso non ha idea di che cosa possano essere. Ma perché gli otto lupi? I lupi sono sicuramente una delle scelte migliori per un paio di motivi. Primo, numero, perché numero elevato significa miglior economy action. E in secondo luogo perché i lupi hanno una bellissima caratteristica insieme ai veloci raptor, ossia le tattiche di branco. La tattica di branco è un particolare privilegio che hanno alcune creature di potersi dare vantaggio se stanno attaccando lo stesso bersaglio. Quindi proviamo a immaginare otto lupi che si mettono a 2 a 2, 4 a 4, comunque sempre in coppie, per cercare di attaccare uno o più bersagli, dandosi vantaggio. Capite quanto può essere davvero devastante una cosa del genere. Se poi parliamo dei veloci raptor, ancora meglio, perché i veloci raptor hanno anche un multiattacco. Quindi anziché essere otto attacchi con vantaggio, sono 16 attacchi con vantaggio. Ed è tanta 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 roba. Nel complesso possiamo fare un quantitativo di danno nettamente superiore alle inflazionatissime palle di fuoco, per intenderci. Sempre a livello del combattimento possiamo invece richiamare delle bestie degli esseri che possano invece darci vantaggi per altre attività, come ad esempio non soltanto danno nudo e crudo, ma magari, non lo so, mettere degli effetti? Assolutamente sì. Alcuni degli effetti che possiamo lanciare contro i nostri avversari sono quello di trattenuto, di afferrato. Questo principalmente lo fanno i serpenti constrictor. I ragni con le ragnatele possono trattenere l'avversario. Molti insetti hanno la capacità di poter avvelenare. Molte altre creature, come i lupi, le tigri, i leoni possono, i leoni non ricordo, ma i lupi, le tigri e le pantere, questo è sicuro, su questi sono sicuro, possono buttare proni i nostri avversari. Quindi sotto questo punto di vista non per forza dobbiamo concentrarci solo sul danno, ma possiamo concentrarci anche su altri effetti, sull'imporre delle condizioni agli avversari. Ora, quest'ultimo dubbio che ho, ho cercato tanto online e sinceramente non ho trovato nulla di ufficiale, quindi nessuna seggia advice in merito, per cui, caso mai, se qualcuno dovesse avere qualche seggia advice, qualche risposta a questa domanda, scrivetelo pure nei commenti. È possibile che queste bestie create possano comunicare con l'incantatore? Perché ricordiamoci, queste bestie sono, cioè queste creature, sono degli esseri fatati teoricamente, quindi non sono assimilabili a bestie, ma hanno le statistiche delle bestie che vengono scelte dal DM. Quindi tecnicamente non sarebbe possibile poter comunicare con loro, ma se dovessimo utilizzare un incantesimo come parlare con gli animali? Quindi sarebbe possibile? È una bella domanda. Personalmente do la mia risposta, per me è sì. E in questo caso, ad esempio, mi collego a un'altra, diciamo, opzione che può essere utilizzata per questo incantesimo, utilizzarli come degli scout. Rilasciamo otto topi in città, in giro in città, e diciamo loro di andare a controllare se ci sono problemi, se stiamo inseguendo qualcuno, se hanno visto qualcosa di sospetto. E dopo un'ora o giù di lì, prima che l'incantesimo finisca, ritornano da noi e ci comunicano cosa hanno visto utilizzando parlare con gli animali. Io non vedo perché no. Poi, certo, è a interpretazione del tavolo, scelta del dungeon master, come al solito. Discutetene nel tavolo, è sempre la cosa migliore da fare. A questo punto, ditemi magari voi come lo utilizzereste o come lo avete già utilizzato questo incantesimo, qualche metodo creativo e soprattutto se avete anche dei siege advice che magari io non ho trovato ed è sarebbe corretto metterli a disposizione di tutti quanti. Io, come al solito, vi do appuntamento sempre qui su Wigirol per un prossimo incantesimo. Saluti e frecce! Grazie! Grazie!